Qua tutta discesa, bello vai dritto. Dove? Esterno. Ah, esterno. Quindi sopra dove state voi. Ah, proprio qua sopra? No, passate da qua. Puoi anche passare al centro d'introsi qua. Se fai così sali, scendi, risali e riscendi. Ci fai tre curve durante il passaggio. La cosa che ci frena di più qua sono un po' ste rogette qua e il gradone quando scendiamo qui, no? Questo qua se uno se lo holla, lo fate tutti quanti così, hollate tutti. Io vi faccio il video, voglio provare a vedere il violare. Quindi la posizione si arretra se stai frenando. Vai De Vito, vai, guarda giù. Stai emozionato, stai emozionato. Guarda in fondo. Vai di taglio. Bravo, bravo. Arrivo a posto. Bravo, guarda in fondo. Bravo. Ora è tutto chiaro. Con la fronte. Vai, guarda qui, venti, venti. Visto, viste, viste, viste. Bravo, metto da te. Bravo, metto da te. Bravo, metto da te. Bravo, metto da te. Scendere.